Ci sono oltre 300 aziende qui già che operano sul campo, infatti per questo si aprirà un importante business forum, poi il Presidente del Consiglio è in giornata a tornare a Roma, in ero studio. E quindi, lo abbiamo detto, l'Algeria aumenterà ulteriormente le forniture di gas all'Italia per permettere al nostro paese di non dipendere più dal gas russo, in particolare con Francesca Grimaldi. Consolitare i rapporti con un paese strategico per l'Italia e diversificare gli approvvigionamenti di gas per sostituire il metano russo, gli obiettivi della missione di Draghi in Algeria, diventata il nostro primo fornitore. Dalla prossima settimana aumenterà di 4 miliardi di metri cubi le forniture di gas all'Italia, che si aggiungono ai 2 miliardi già previsti. Quasi 14 miliardi di metri cubi di gas e ce ne sformirà altri 6. Quasi 14 miliardi di metri cubi le forniture di gas. Quasi 14 miliardi di metri cubi le forniture di gas. Grazie a tutti. 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 soldatini quelle che sono le assegnazioni delle caselle inerenti alle candidature, alla presidenza delle regioni che ovviamente sono collegate ad interessi ben precisi, interessi politici ovviamente, si sa che la Meloni vuole Lazio per il suo cognato Lollobrigito, capogruppo della Camera di Fratelli d'Italia, è una richiesta legittima, sono aspetti che ovviamente non ci riguardano, a noi interessano solo le dinamiche siciliane, poi del resto se ne occuperà Dino Gianrusso, quello del nostro movimento sud, chiama Nord, noi intanto e io in particolare sono dedicato esclusivamente alla Sicilia, anche perché le dinamiche oltre lo stretto, il linguaggio che viene utilizzato oltre lo stretto, non è che io lo capisca tanto, magari ancora non ho la cultura politica di comprendere certe sfumature, infatti ho sempre detto agli amici anche a Dino Gianrusso, sono inadeguato per quelle che sono le dinamiche che riguardano Roma e come dico io sempre le dinamiche oltre lo stretto, darò il mio contributo al progetto sud chiama Nord, lo darò dalla Sicilia però, lo darò rimanendo ancorato saldamente alla Sicilia che c'è qua Ismaele, scendi che c'è la Iris Palermetana che ti aspetta, questa incursione di Ismaele è vero, sono già in ritardo e Ismaele è sotto che mi aspetta qua in albergo perché abbiamo degli incontri da fare e degli arruolamenti da definire, perché è vero che questo giro, questo primo giro di arruolamento ci ha dato quantomeno gli spunti per poter prendere le decisioni importanti che oggi comuniremo alla stampa, ma è anche vero che dobbiamo pure completare l'arruolamento, quindi appello conclusivo e vi lascio, se no Ismaele comincia a fare l'incursione, a rompere le scatole, pure lui e quindi ci disturba, ci distrae, vi raccomando dovete chiamare, forza il numero di super pressione, avanti, 366, 366 e poi com'è? Vediamo chi è attento, mettete in bella vista il numero della segreteria, per cortesia, per arruolarvi, ho visto che alcuni hanno scritto ancora se c'è spazio, se c'è tempo, sì, c'è tempo per potervi arruolare, la punzina, non la punzina, la punzina, alle ore 12.30 ci vediamo a Castellana Sicula, sì Vincenzo, Vincenzo la punzina e non la punzina, Alfredo Siracusano che scrive 57.83, ce li giochiamo all'otto, ah era il pezzo che mancava, quindi è 366, 366, 5783, e questo è il numero 5783, così dice anche Peppino, quindi chiamate al 366, 366, 5783, 366, 366, 57, che scriviste? Mario Oliveira ha scritto un numero sbagliato per cortesia, che poi sbagliano e fanno impazzire, ecco giù si raffa, 366, 366, 5783, scrivete il numero per intero e allora ci potete contattare per arruolarvi nelle nostre liste di testimonianza, noi guardate le abbiamo già definite per circa il 60%, quindi ci saranno ancora 15 giorni di tempo per poter completare la nostra fase di arruolamento, dopodiché ci incontreremo, ci saranno degli incontri formativi perché dovete essere preparati a questa guerra di liberazione, va bene, ora vi lascio, stasera ci sarà anche un altro momento importante, questo lo voglio anche sottolineare perché c'è il primo sindaco che aderisce con il progetto di Sicilia Vera con De Luca sindaco di Sicilia, il primo sindaco della provincia di Catania, ce ne sono altri con cui stiamo ovviamente discutendo, però io stasera lo voglio dire, sarò a Mascali alle 17.30 perché ci sarà il sindaco Luigi Messina che scenderà in campo con noi, è quindi un momento importante, tutti i nostri sostenitori ora pubblicherò nuovamente la locandina, potete venire, è un incontro pubblico, saremo a Fondachello alle 17.30, Mascali Luigi Messina scende in campo con noi, noi ci vediamo alle 10 circa a Piazza e indipendenza al bar Santoro, forza, scendiamo in campo, andiamo avanti, siamo sulla strada giusta questi tremano ormai, sono come i pugili stonati lì messi all'angolo, quindi è il momento di caricare di Cozzi e di Guttaro, ti raccomando! Grazie a tutti! 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 A dopo! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!